La domanda a cui rispondo ora è questa. Connettendoci con l'unica legge armonica universale non si ha più bisogno del sapere perché si diviene anche sapere, ossia sapere impersonato. In un certo senso è così. Quando l'unità è la verità di ogni cosa quella divina fondamentale data da n elevato a 0 uguale a 1 che mette n come reale però esiste in potenza 0 che vuol dire che non è in atto anche se c'è una presenza e noi ci rendiamo conto che esiste questo 1 che è un valore trascendente alla realtà perché riguarda la dimensione 0 della realtà quando tutto ciò accade anche la nostra comprensione se riesci ad arrivare al limite di purezza di questa condizione così essenziale ecco l'atto stesso dell'intendere è talmente collegato e fuso insieme con il risultato da essere entrato proprio talmente in questo atto conoscitivo da essere una fondamentale consapevolezza che poi aiuta e aiuta moltissimo in tutta la vita reale perché quando avrete capito che esiste questa consapevolezza e che tutto il resto che vedete è soltanto quella cosa piccola piccola che esiste dimensionata nello spazio nel tempo e in ogni limite e capirete che invece siete parte di un'entità senza alcun limite capirete che arriverà il momento grazie all'unità che se avete avuto la sorte di fruire ora di un milionesimo avrete certamente quel milione meno un milionesimo che al momento non vi è stato dato lo avrete nel prossimo vostro come voi stessi proprio se lo vogliamo esprimere nei numeri di oggi immaginando che tutta l'esistenza sia solo in quei 7 miliardi che esistono nel presente io sono un valore 1 che riferito a 7 miliardi è quel valore 1 tolto a 7 miliardi quindi se io do retta solo al mio io e trascuro tutti gli altri che esistono entro i 7 miliardi e sono così uno che avvalora il piccolo che ho io e credo che io sarò per sempre piccolo ecco questo sfugge proprio alla legge dell'unità che comprende anche me non sono fuori dall'unità io se io sono uno e proprio perché io sono uno e ora sono un 7 miliardesimo io sono anche gli altri che mancano i 7 miliardi è il prossimo mio come me stesso che avrò oltre la mia esperienza singolare quando potrò fare esperienza multipla lo avrò se in questo mondo reale in cui io fisso qual è il mio valore io anziché fissare quel valore totalmente liberante che dicevo prima io fisso un valore egoistico e allora non amo il prossimo mio come me stesso perché valuto me di più degli altri e a questo punto io elimino dal mio futuro tutti quegli altri che io avrò deciso di non amare per il tipo di uomini che sono di vite che rappresentano e a questo punto sarò stato io ad escludere dal mio possibile futuro tutti quei soggetti viventi oggi che non rientrano nelle categorie mentali di una vita che sia per me soddisfacente ecco quanti possono essere oggi nel mondo reale quelli che mi piacerebbe essere perché io amo quel tipo di soggetti lì ecco se per me non sono tutti quanti perché io ne ho esclusi alcuni io li avrò esclusi e nel mio futuro io non sarò quel prossimo che ora non mi sarò adattato ad amare proprio perché io ho tenuto le distanze tra il mio io e quel tutto che io sono ma essendo stato data autonomia al singolo aspetto di Dio sta al singolo aspetto di Dio di scegliersi il valore ideale che liberamente desidera assumere però non alla fine di un percorso di vita unilaterale dopo un percorso di vita vai e vieni in cui dopo una tesi di vita mortale ne posso seguire una uguale e contraria di una vita che ritorna all'origine e che si salva alla luce proprio di quello che visse il popolo di Dio quando visse per metà schiavo in terra d'Egitto e per metà nel deserto in cui c'era Dio che faceva tutto ecco solo dopo questi due modi di esistenza uguali e contrari uno di una vita apparentemente autonoma e un altro di una vita interamente condotta da Dio solo allora noi potremo finalmente avere fatto un'esperienza intera perché la vita è come un giro attorno a tutto il mondo se noi partiamo dal punto che occupiamo ora e facciamo un giro fino al punto opposto ci manca ancora tutta quella parte nel mondo di sotto che ci riconduca al punto di partenza e noi potremmo credere di avere visto tutto il nostro mondo ma ne avremmo visto solo una metà un giro un giro Grazie a tutti.